www.feyyaz.com c'è la borsa? eh? c'è la borsa non c'è la non c'è la allora si fatto male ma guardate sto avanti non esci mai occhio vieni dai ti diamo una maglia ma te che cazzo fai non è che costruiremo tanto fai tutti i teli e se me lo chiedono ve lo dico di no grande Pippo quando c'è da guadagnare qualcosa Pippo porta a casa è normale? Stevie Andrea non metti a urlare tranquillo vieni la schiena vieni la schiena alter no no 39 le devo ancora fare io una schiena fa papà ha finito di di allenare i bambini è venuto qua tutti lo ne dico non giochi berri basta non è una risposta attaccata no 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 anche in zagli faceva la lampa alla porta ma li faceva no è la palla in questo no 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 il secondo no, il secondo no, il secondo no, la mezza era in gioco, la prima stava rientrando da fuori gioco, va beh, salvi 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 complimenti Averio, questo c'era, quello di prima no, questo c'era come fai a non dargliela? Grazie a tutti Vai salvi, vai salvi, vai salvi Guardando a Lina Rossa erva il signor giocatore Brava il signor giocatore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti